Falsi miti nella moda. Oggi ne vediamo alcuni. Ciao sono Patrizia, questo è il mio canale Patò74 dove parlo di moda, come vestirsi, sfilate, tendenze moda. Insegno anche a disegnare il figurino perché sono stilista. Oggi parliamo di alcuni falsi miti. Rivediamo insieme. Allora, moda e stile, ragazze, moda e stile sono due cose diverse. Cominciamo col primo falso mito, ovvero se vuoi essere elegante porta colori neutri. Non lo so ragazze perché essere eleganti è un modo di vestirsi che contempla anche i colori che non sono neutri. I colori neutri sono una grande moda adesso, però ti posso dire che si può essere eleganti, qui hai un esempio, anche con i colori più intensi. L'eleganza è tutto un insieme di accortezze a cui fare attenzione. Io cerco di darti dei consigli, però ragazze non è che puoi essere elegante solo se ti vesti con i colori neutri. Perché i colori neutri, cioè i panna, i beige, i grigi, sono facili da abbinare. E' proprio perché sono facili che è un tipo di abbinamento per essere eleganti da entry level, da principiante, basico, visto e stravisto sui social. Ragazze, abbinare tutti i colori chiari insieme. Non è che bisogna essere dei maghi, è facilissimo. La cosa più facile del mondo, se vuoi essere elegante con dei colori diversi da quelli neutri, già il tuo modo di vestire passa ad un livello da basic a intermedio. Perché è già un po' più difficile, però vedi come anche dei colori intensi possono essere su un abbinamento elegante. Chiaramente bisogna saperlo fare e soprattutto quando vai su dei colori un po' più intensi, ci vogliono anche i tessuti e i capi fatti per bene, perché un tessuto di buona qualità sicuramente rende meglio anche nei colori. Parti dal livello basic, il livello da principiante, entry level, come lo vuoi chiamare, usando i colori neutri. E' molto facile abbinare i colori neutri e chiari tra di loro, quello è il livello base. L'intermedio, colori sì intensi, però mi stai sul monocolore, cioè in questo caso ha tutto giallo in questo outfit, però potresti avere tutto rosso, tutto blu, tutto verde, tutto marrone, come piace a te. Colori, colori, ecco. Il livello pro, ragazze, il livello pro, quello super avanzato, super esperta, è quello con due colori almeno. Quello è il livello pro, capite che si crea un falso mito dicendo che i colori neutri sono un modo per vestirsi elegante, però è un falso mito. Mentre invece quando diventi pro, hai diversi colori e devi capire come abbinarli. Io ti ho fatto dei video su come abbinare il pesca, vallo a vedere, che è il super trend di quest'anno. E anche come portare il blu e il beige, che sono due colori eleganti, eterni, per eccellenza. E in questi video ti spiegavo come, e te lo spiego anche adesso, c'è una differenza tra i colori caldi e i colori freddi. Abbina tra loro tutti i colori caldi e abbina tra loro tutti i colori freddi. Quando vuoi andare su un livello avanzato, un livello pro del sapersi vestire elegante e vuoi portare dei colori anche più particolari, che possono essere dai pastello a quelli intensi, devi veramente essere un livello pro, ma puoi essere elegante, perché qui hai l'esempio. Quindi sfatiamo il mito che devo soltanto avere colori neutri e colori chiari per essere eleganti. Provate, uscite dalla vostra zona comfort e mettete dei colori più grintosi, con dell'energia, con della personalità e cercate di imparare ad abbinarli. Prima di tutto caldo con caldo e freddo con freddo. Altro falso mito, la storia della minigonna con una scadenza in termini di età, cioè dopo i 40 non la puoi più mettere, perché? Questa era una vecchia idea che andava tanto tanto, forse delle nostre nonne, che avevano delle regole che dopo una certa età dovevano, cioè dopo una certa età sei vecchia e ti devi vestire e comportare come una vecchia, ecco c'erano un po' questi preconcetti. Per fortuna il mondo va avanti, siamo negli anni 2000-2020, 2024, quindi le minigonne, le donne over 40, se le possono portare. E te l'ho detto anche in un video dove ti parlavo di come portare la gonna, ci sono un sacco di consigli. E vediamo qui delle foto, cioè cosa di fondo, la cosa di base, non è l'età, è la cura. Se tu hai cura, pratichi attività fisica, hai cura del tuo corpo, ti dai le creme, c'è un minimo di base ragazze, non bisogna essere super fissate, non è questo. La cura di te stessa, abbi cura di te, del tuo corpo, della tua salute e di quello che indossi. Le gonne si possono portare, una donna curata, qualunque sia la sua età, può portare la gonna corta. Gonna corta, minigonna e anche due o tre dita sopra il ginocchio, non deve essere quella a metà coscia, perché ci sono diverse lunghe, da sopra il ginocchio in su è minigonna ragazze. Ognuno di voi, in base a come si sente, sceglie quanto portarla corta. Poi c'è il discorso del buon gusto, però non è che la minigonna è uguale a cattivo gusto, anche questo fa parte di vecchie cose delle nostre nonne. Quindi minigonna sì, gonna corta sopra il ginocchio sì, a qualunque età se sei curata. D'estate, se la pelle non è perfetta, ci sono un sacco di fondotinta, creme coprenti, spray, non sono spray abbronzanti ragazze, sono delle specie di fondotinta, delle specie di creme pensate per le gambe. Quindi non ti metti le calze perché fa caldo, vuoi portare la gonna corta, vuoi uniformare la pelle. Ci sono un sacco di prodotti di bellezza che vanno a abbellire la pelle anche quando non c'è la calza. D'inverno, come ti dicevo nel video dove ti parlavo di come portare le gonne, sei a posto perché ci metti le calze e sei a posto. La gonna corta va benissimo a qualunque età, quello che conta è la cura della persona. Poi andiamo a vedere un altro falso mito per rimanere un po' in questi tipi dei mondi. Sei sexy solo se sei magra. Allora, vediamo qui l'ultimo outfit. È magra ma per vestirsi così mettiti un paio di pantaloni normali perché una minigonna con degli stivali quisard che si dice che vadano di moda ma stanno bene solo in passerella, una vestita così subito. Allora, il problema è che qui stanno venendo fuori tutte ste etichette e la curvi e la petite. Adesso c'è la petite, adesso abbiamo il problema di essere petite che non è un problema. Ma meno male che siamo tutte alte in un modo diverso ragazzi. Poi ogni periodo storico ha i suoi canoni. Però guardate anche una curvi come può essere sexy. Cioè se una donna ha buon gusto, vince il buon gusto, vince lo stile. Non è che basta essere magre per essere sexy. Perché abbiamo visto delle cose su delle magre abbastanza imbarazzanti. E io qui vi faccio vedere un esempio di un'icona di bellezza come Monica Bellucci ragazze. Quelle di voi che sono nate prima degli anni 2000. Ragazze, l'abbiamo vista crescere Monica Bellucci. Siamo cresciuti insieme con Monica Bellucci. Lei era giovane ed era magra nei tempi che furono. Adesso ha qualche chilo in più. Però ragazze, è sempre bella, sexy e affascinante. Io ti faccio l'esempio di Monica Bellucci per farti capire come si può essere sexy indipendentemente dal peso. Quello che conta è lo stile e la cura di sé. L'esempio più facile da capire ragazze è Monica Bellucci. Anche adesso è sexy, anche adesso è bella, anche con qualche chilo in più e anche con qualche anno in più. È bella comunque. Perché qui abbiamo tutti questi canoni. La mitica Sofia Loren, Twiggy, Kate Moss. Adesso siamo sulla Kardashian. Però ragazze, alla fine della fiera se stiamo a vedere quelli che sono tutti i canoni che propone la moda, non ci si sta mai dietro. Cioè il concetto di fondo è sapersi vestire e avere cura. Io avevo fatto l'esempio della Bellucci proprio per farti capire come una donna possa essere bella tanto magra, tanto quanto curdi. Detto questo, le donne normali sono queste ragazze. Sono queste qui le donne normali. Ma la differenza qual è? Per questo che dico solo magra. La differenza è che uno si nutre, mangia nel miglior modo possibile, pratica un minimo di attività sportiva, che non vuol dire ammazzarsi di esercizi in palestra. Però se tu vai un giorno sì e un giorno no a portare a passeggiare il cane per un'ora a passo svelto, ragazze, è già attività fisica. Cioè non è che bisogna sempre massacrarsi in palestra. E un altro segreto di bellezza, cara le mie ragazze, è quello di dormire. Se ti riposi e dormi bene e riposi, riposi, anche la pelle del viso è più rilassata. Il corpo si rigenera. Quindi mangiare bene, avere cura di sé, una cura anche a livello estetico, creme, cose, idratazione, quelle cose lì da noi donne un minimo. Praticare un po' di attività fisica, attività sportiva e dormire e riposarsi. Dopo che cosa c'è? Lo stile. Lo stile è il carisma. Il fascino è il carisma. Poi non pensiamo alle icone, alle attrici, perché quelle sono belle di mestiere. Allora c'è per dire la parrucchiera che di mestiere deve saper fare la parrucchiera, c'è la modella che di mestiere deve essere bella. Per mestiere, ragazze. Poi ci sono le persone normali come noi che faranno il possibile per essere curate, ma quello che conta di più su tutto non è quanto spendi per vestirti o la tua età o il tuo peso. Lo stile. Avere stile è il mio canale, ti insegna a vestirti, vai a vedere la playlist delle tendenze moda, ci sono tantissimi video, ragazze. Avere stile è cercare di essere la migliore versione di te stessa, partendo da quello che sei tu, come sei tu fisicamente, come sei tu come carattere, come ti muovi, come ti comporti, come parli, come ti vesti, come abbini le cose, come mangi. Tutto questo tuo mondo ti trasforma, tu lo puoi trasformare, ci lavori su e lo puoi trasformare. Ma non pensate che anche le modelle o le attrici siano belle solo per una questione di fortuna, perché la bellezza poi va anche mantenuta nel tempo. Quindi per tutte le persone normali che vogliono avere stile e carisma. E il mio canale è pensato apposta per tutte voi. E qui entriamo in un altro falso mito, cioè la tua taglia. Una volta, quando non c'era ancora il pronto moda, il fast fashion, in qualunque negozio tu andavi, nell'arco di un'ora, avevi sempre la stessa taglia. Cioè entri in un negozio, un brand, ti provi la taglia 44 e quella. Vai in un altro brand, in un altro negozio, dopo mezz'ora ti provi un pantalone e sempre taglia 44. Oggi se giri i negozi, nell'arco di un'ora hai tre taglie diverse. Ma non è che mentre passi da un negozio all'altro dimagrisci e ingrassi. Sono le taglie dei capi di abbigliamento. Quindi non fissatevi più con le taglie, perché soprattutto nei brand di grande distribuzione, non parliamo dei brand di livello alto, che quelli fanno ancora le cose per bene come taglie, ma in tutti gli altri c'è di tutto ragazze, c'è veramente di tutto. È impossibile avere tre taglie diverse nell'arco di mezz'ora, ma anche solo due. Allora, sono stati fatti diversi studi su come alcune aziende abbiano deciso di scalare le taglie per vendere di più. Perché se una donna entra in un negozio e compra un capo che è di una taglia in meno da quella che porta di solito, è chiaro che lo prende più volentieri. Capite? S, M, L, ok? Sono tre taglie. Se vado a vedere sotto, 40, 42, 44, 46, 48, 50, sono ben sei taglie. Ma vorrei dire che veste meglio una giacca che è della taglia 42 per una donna 42, oppure una giacca S che può andare bene sia per una 40 che una 42, una taglia M che può andare bene sia per una 44 che per una 46. Quindi se vuoi una vestibilità per bene e vuoi fare un investimento di comprare un capo fatto per bene, prendi le taglie con i numeri perché fanno più sviluppo. Quindi è più probabile che ti vestano meglio. Una M che è pensata per vestire tanto una 42 quanto una 44 e se può anche la 46. Vedi come non c'è senso. Prima che ci fosse il pronto moda e tutte queste belle catene vendono di tutto e di più, le taglie numeriche erano per i capospalla, ma le taglie S e M erano solo ed esclusivamente per questi capi qui. Le felpe, le maglie, le t-shirt. Tutta roba difficile da misurare perché la maglieria, le felpe, le t-shirt sono materiali che non sono come il tessuto fermo o un po' più stretch. Quindi c'era bisogno di dare delle taglie su questo tipo di capi. Non puoi comprare una giacca con delle taglie del genere. Se ti vuoi comprare un cappotto, un pantalone, una giacca per bene, vai su queste taglie qui. Già solo un brand che ti fa una giacca in taglia M, croce sopra, cioè lasciate perdere. Comprateci le t-shirt, le felpe, le maglie, ok, ma i capi in tessuto comprateli nei brand che fanno le taglie. Perché se tu sei una taglia 44, hai il sacrosanto diritto di comprare una giacca in taglia 44, non una M che va bene un po' per tutte. Altro falso mito, wow, costa poco, costa poco e alla moda. Ho fatto un affare perché costa poco, sì però veste così. Vi faccio un esempio dei pantaloni perché io lo sto vedendo molto questo difetto in giro, c'è tanto, proprio perché c'è anche un problema di taglia ragazze, ve l'ho spiegato, molte si intestardiscono con una taglia che non esiste più. Allora questo pantalone, te lo faccio vedere, fa difetto, fa difetto perché fa troppe pieghe, quindi vuol dire che è una taglia stretta, è un pantalone stretto, non vi fissate con le taglie. Quando hai tutte le pieghe nella parte dell'attaccatura della gamba, hai tutto questo arriccio? E' perché il pantalone è stretto e poi fa quel difetto lì. Io lo chiamo AV doppia, che è terribile ragazze. Un pantalone deve fare meno difetto possibile, meno pieghe possibile. Prendi un pantalone che non ti faccia questi difetti qui, perché è terribile ragazze, io lo vedo tantissimo questo difetto. In aziende d'abbigliamento si sdifettano anche i pantaloni. Tutte queste pieghe si chiamano baffi. Tiriamoli via, correggiamo il cartomodello perché non deve fare tutte quelle pieghe lì. I pantaloni quando li provi devi provarli anche in negozio sedendoti, così ti accorgi dove tira. Però evitate queste cose qui, mi raccomando. Bene, io spero che questo video ti abbia aiutato a notare e a fare caso delle cose che spesso e volentieri non ci facciamo caso. Chiaramente come dico in tutti i miei video sono consigli, poi ognuna di voi farà quello che le pare, perché siamo libere di vestirci come ci pare. Sì, però un conto è il cattivo gusto e un conto è il buon gusto. Dopo ognuna ha il suo stile, meno male che siamo tutte diverse, ci sono le curvi, ci sono le petite, ci dividono per categorie. Amen ragazze! Però mi raccomando tenete in considerazione tutti questi consigli, non vi fissate con la taglia perché abbiamo capito che è una battaglia persa. Cercate di prendere per trovare la giusta vestibilità che faccia meno difetto possibile, prendete i capi nelle taglie 40, 42, 44, 46, la S, la M e la L per le maglie e per il jersey, ok? Bene, sul mio canale trovi un sacco di video, vai a vedere la playlist delle tendenze di moda, come portare le gonne, come portare gli stivali, come abbinare i colori, come essere più slanciata, i cappotti lunghi, i cappotti corti, gli errori di stile, come essere più slanciata d'inverno, gran cosa, difficilissimo però fattibile ragazze, fattibile. E se questo video ti ha dato delle idee, condividilo con le tue amiche, che anche loro potrebbero avere piacere di fare i loro ragionamenti per trovare delle idee nuove per il loro stile. Noi ci vediamo tutte le settimane su YouTube, iscriviti, seguimi anche su Instagram, sul mio canale trovi anche dei video dove disegno il figurino di moda, essendo stilista insegno anche a disegnare il figurino. Mi ha fatto piacere fare questo video insieme a te, mi raccomando, abbi cura di te, della tua persona, e anche di come ti vesti. Non vi fate tentare dalle mode, perché non è detto che quello che va di moda sia effettivamente la cosa migliore, anche solo per il tuo stile, perché poi ognuna di noi deve prendere dalla moda solo quello che funziona per se stessa. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao da Patricia Patto74. Ciao! Ciao!